Benvenuto nel tutorial delle spinte con bilanciere su panca declinata. In questo gesto andremo ad allenare principalmente i muscoli pettorali ma anche ovviamente i tricipiti e i deltoidi anteriori, quindi tutti i muscoli di spinta degli arti superiori. Per eseguire questo gesto di solito difficilmente trovi una panca declinata in palestra. Una delle cose che noi suggeriamo è il posizionamento di alcuni dischi, magari se li hai i bumper quindi dei dischi più spessi, al di sotto della panca per cercare di declinare la panca quanto basta per poterti comunque sentire diciamo quasi supportato nel movimento a testa in giù ma non eccessivamente a testa in giù da sentirti cadere e non riuscire a fare il gesto. Quindi in questo gesto quello che diciamo noterai rispetto alla distensione su panca piana è che il petto viene fuori di più, hai la possibilità di addurre le scapole di più e di creare un arco lombare maggiore. Quindi andiamo a settarci distendendoti giù, posizionerai i piedi a terra o sui dischi in base a come ti trovi più comodo. L'importante è riuscire a di inclinare bene appunto il busto e creare questo arco lombare maggiore rispetto alla panca piana. Afferri il bilanciere con una impugnatura leggermente maggiore rispetto alle spalle formando fondamentalmente un angolo tra l'avambraccio e il braccio di circa 90 gradi. Spingi il bilanciere per staccarlo dai supporti, lo porti in linea col petto e in questo gesto nella fase di discesa ti ritroverai al di sotto della linea e allo sterno. Quindi esegui il movimento in maniera controllata, vai a posizionare il bilanciere sfiorando la linea al di sotto dello sterno, dopodiché spingi in modo rettilineo verso l'alto. Ovviamente i gomiti così come nella panca piana e nella panca inclinata sono leggermente verso l'interno, uno degli errori comuni è quello di aprire troppo i gomiti verso l'esterno o posizionarli alti in linea con le spalle e questo ti porta ad eventuali traumi e stress del deltoio anteriore. Una volta terminato il gesto posiziona il bilanciere dietro fino ad arrivare ai supporti per posiarlo in massima sicurezza. Per ulteriori tutorial degli esercizi da palestra seguici sul canale youtube di dieta flessibile Italia o sulle pagine social di dieta flessibile. Grazie a tutti.